ciao a tutti ragazzi oggi voglio far vedere quello che è successo nell'estrazione del 4 aprile 2019 con la di stasera allora ho già digitato nel mio programma cioè sono cinque programmi in uno questo è il 12 abisecchi di john e vi lascio comunque vi lascio tutti i link in descrizione sotto il video per chi volesse acquistare i miei programmi allora stasera partiamo subito con due belle sorprese due belle vincite per chi ha giocato i miei ambisecchi allora come potete vedere questa è l'estrazione precedente questa è quella di stasera allora nei 12 ambisecchi di john il mio programma qui sono cinque programmi in uno e ripeto 1 2 3 4 e 5 che potete acquistare comunque il link sotto il video allora a genova ambo secco 1 e 74 preso nei 12 ambi da giocare 1 e 74 poi uno anche qui 74 qui e via dicendo 74 anche qui guardavo se ce n'era due perché a volte sono doppi quindi qui ambo secco su genova e su palermo una ruota che giocavo fino a poco tempo fa poi la riprenderò appena potrò io sono di genova comunque però giocavo sempre su palermo quindi sono usciti due ambi secchi qui 29 e 26 allora 29 e 26 quello qui nella seconda nel secondo ambo sono 1 2 3 4 ci sono 12 ambi secchi per ruota so che è un po dispendioso ma è comunque un programma molto valido allora 26 e 29 ambo secco al primo colpo e che dire è veramente buono guardavo se ce n'era un altro 26 qui 26 29 26 26 28 no solo 1 poi guardiamo l'altro programma le quaterne secche vediamo un po io ho già visto prima però mi sembra che ma qua solo un ambo qui solo un ambo qui invece il 74 a genova 10 su milano lambate e qui ambo su due quartine recito 26 29 comunque sempre un buon risultato su una quartina una delle due poi guardiamo le quaterne di john che sono altre quaterne sono quattro quaterne da giocare per ruota e qui di nuovo qui 1 74 e 29 26 perché i calcoli comunque sono simili come dico sempre non sono uguali ma sono simili alcuni sono delle varianti e quindi ho inserito i miei programmi anche sotto qui allora i terni vediamo comunque anche qui su terzine buono come dico sempre perché un euro di ambo in terzine sempre sui 78 78 euro mi sembra con un euro quindi qui ambo se ambo su un terzina in terzina 1 74 e 29 26 in terzina 29 26 eccolo qua guardavo se ce ne erano due perché a volte capita spesso che ce ne sono più di uno per ruota allora vediamo un monster dog qui invece solo l'ambo su palermo su sei numeri però sempre buono perché con un euro sui 15 euro e comunque sono tutti a primo colpo allora i miei programmi sono quasi tutti a primo colpo cioè si elabora e poi si va a giocare a parte quelli vecchi della ciclometria che li hanno un discorso diverso dei primi video dove inserivo il teorema del rettangolo che non mi ricordo neanche più adesso come devo andare a rivedere perché sono sono anni che non lo riprendo più e quelle sono cose diverse quindi lì bisogna aspettare 18 colpi una cosa del genere invece questi programmi la maggior parte che ho sono tutti al primo colpo cioè si elabora e poi si mette al precedente e poi la futura si scrive si va a giocare allora non c'è niente di ovviamente di di certo nel lotto lotto un gioco alleatorio quindi come si sa quindi per le battutine di dementi o bimbi minchia che mi dicono ma tu non sei ricco ma tu no allora cioè quelli sono veramente non gli rispondo neanche perché sono stupidi dementi quindi vi faccio vedere dei risultati non do previsioni per il momento perché mi sembra un po una cosa le lascio fare agli altri perché mi sembra un po una pagliacciata perché a volte non esce nulla oltre c'è poco come ad esempio qui ad esempio su questa dog cito l'uso all'uno se davo previsioni tutti che si incazzavano cose così non mi va quindi anche qui su milano solo il 10 qui questa mostra dog perché sai i numeri e niente ragazzi su su super analotto un solo numero e invece sul 10 lotto ho visto due numeri su sei ma un po pochino dai miei programmi gli altri programmi ovviamente tutti i programmi non li posso controllare perché sono 100 300 anni e che dire comunque stasera è stato abbastanza buona perché nei 12 ambi secchi comunque due ambi secchi uno per genova e uno per palermo le abbiamo presi poi non so chi l'ha giocati chi non ha giocati speriamo bene niente ragazzi io vi lascio il link sotto vi lascio mi raccomando cliccate sul like iscrivetevi come sempre mi fa piacere poi ricordatevi che io sono un pittore autodidatta comunque potete vedere anche nella prima panel page di youtube ci sono c'era una mia televendita di tre miei quadri tre mie dipinti e col presentatore che fa vedere i miei quadri e comunque niente ragazzi guardate le mie playlist fate anche delle musiche strumentali su sulle playlist potete seguirle potete ascoltarle è musica strumentale da film comunque non è non è cantato solo per intenditori quindi è musica progressive elettronica e si chiama pc mad gianfrancosini john project e niente mi fa piacere comunque se andate nelle mie playlist allora niente ci sentiamo alla prossima stasera meno male che ha dato questi due ambisecchi oltre che qui anche negli altri programmi questo programma che si chiama cinque metri dell'otto john questo è il 12 ambisecchi di john qui sopra c'è scritto cinque metri dell'otto john perché è un programma sono praticamente cinque programmi in uno e vi lascio i link sotto nel video per chi volesse comunque acquistare ovviamente non è che uno va acquista li elabora e diventa ricco c'è tanta gente purtroppo demente e idiota purtroppo ce ne sono tanti pensano così e niente ragazzi ci sentiamo al prossimo video vi saluto vi ringrazio mi raccomando se volete attivate la campanella non attivate fate un po quello che volete iscrivetevi cliccate sul like e ricordatevi che comunque faccio tanti video diversi non faccio video solo video dell'otto come avete potuto vedere faccio anche video anche per per insomma avere un po più di visualizzazioni potete vedere anche nell'home page quindi tante donne magari si scandalizzeranno un po però lo faccio per divertirmi e poi tanto tiro su di ascolti e mi faccio un po di visualizzazione un po di iscritti in più perché sennò dovrei fare diecimila canali quindi ne faccio uno con tante playlist diverse una di quadri una di donnine una dell'otto una della musica insomma ci sono tante una di videogiochi ci sono tante playlist diverse quindi per non creare 300 canali ho creato un canale con varie playlist va bene vi ho dato la spiegazione di tutto più o meno e mi raccomando cliccate su like e se volete iscrivetevi se volete ci sentiamo al prossimo video speriamo bene di azzeccare ancora di più soprattutto anche nel dice lotte lotto anche del super enalotto e più avanti dovrò creare un altro programma forse del super enalotto però vediamo perché non ho tempo e non c'ho manco la voglia sinceramente e niente ragazzi che dire ci sentiamo vi saluto vi ringrazio mi raccomando se volete guardate i miei playlist ho detto mille volte ci sono i miei quadri a ci sono anche i miei link comunque su sempre su youtube su instagram john art gallery gianfrancosini sono io sia su instagram che su facebook la pagina quindi andate su john art gallery gianfrancosini sono io potete vedere soprattutto anche nel instagram ci sono tutti i miei che ho fatto potete vederli e spero che vi piacciono e che dire niente vi saluto vi ringrazio ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti ciao